e come promesso un anno dopo non solo i costumi ma anche le giacche tutto riciclato buongiorno a tutti è vero come sta andando intanto questi sono i nuovi piumini sì sì questi sono nuovi piumini anch'essi fatti da plastica riciclata e abbiamo sviluppato una micro collection di circa 9 capi più la sciarpa scalla collo dove ritroviamo dove si possono acquistare attualmente abbiamo circa 80 punti vendita in italia e man mano cercheremo di crescere sempre più online online sì in cimburazzo milano punto com o amazon e la linea di costumi insomma che soddisfazioni sta dando sta andando molto bene stiamo avendo degli ottimi riscontri anche perché grazie alla nostra filosofia stiamo prendendo sempre più piede per il discorso della sensibilizzazione della gente sul tema ambientale quindi il riciclo della plastica sarà il futuro insomma anche voi siamo sommersi dalla plastica quindi è meglio indossarla ma chi chiede se sono prodotti poi insomma sani da utilizzare addosso a contatto con la propria pelle cosa rispondete certamente sono testati i primi a testarli siamo noi quindi dopo due mesi addosso possiamo confermare che non c'è nessun problema anzi si fa solo del bene comprando i nostri costumi ma a proposito delle giacche c'è anche un'innovazione tecnologica sì abbiamo una novità sempre partendo dai nostri materiali di riciclo abbiamo messo all'interno delle giacche un sistema al carbonio sarebbero delle resistenze che vengono alimentate da un classico power bank che noi tutti ormai abbiamo per caricare i nostri cellulari e quindi viene alimentato questo qui abbiamo tre temperature 45 35 e 25 gradi a seconda della temperatura e dell'umidità esterna permette appunto di riscaldare la in questo caso il collo prova meraviglioso fantastico si 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 tratta con una leggerezza cioè nel senso non occorre avere dei capi pesantissimi ma la temperatura quella desiderata e con un cappotto quindi si rimane eleganti però con un tec all'interno mai più senza il prossimo vero adesso ci godiamo la primavera quindi preferiamo i costumi ma l'anno prossimo siamo già pensiamo già al futuro grazie a te